a perché soffrire il caldo godetevi il bello dell'estate fiesta caiman clima con doppio airbag e climatizzatore 16 milioni 970 mila lire in pronta consegna con fiesta l'estate è tutta un piacere apriamo con una notizia da tokyo partiginoso crollo dello yen scusate improvvisa risalita dello yen comit online vorrei cambiare investimenti la banca commerciale italiana presenta comit online nasce un nuovo modo di entrare in banca non entrarci ovunque tu sia oggi puoi compiere molte operazioni dalle più semplici alle più importanti tutto per telefono tutto prima e meglio comit online la prima banca con il filo invece della fila guardiamo l'olio si guardiamo l'olio mamma guardate l'olio eh come si porta l'olio qui all'agip c'è energia ma può curarvi ancora you're welcome personal computer olivetti potenza senza confini processore pentium di intel la viso è difficile con sambiter c'è più facile che ora è? mezzo giorno di fuoco? chissà scegliere scegli il preju 106 fino al 30 giugno un milione in meno e la prima rata a febbraio 96 dolcezza di roventa e la depilazione a cera diventa dolce la cera non scotta ed è subito pronta dolcezza di roventa roventa per chi non si accontenta accendo il climatizzatore è di serie incredibile è incredibile sì è facile guidare una serie civalvole con le sospensioni multilink incredibile nuova primera passback incredibile ricordate beato tra le donne il varietà di rai 1 presentato da paolo bonoris che tanto successo ha avuto l'estate scorsa stiamo preparando la seconda edizione che andrà in onda a partire dal 29 giugno se siete giovani e spiritosi e volete partecipare anche voi alle selezioni per il nuovo beato tra le donne telefonate subito ai numeri 06-3242-832-3242-835-3242-839 e buona fortuna grazie